Come protestano oggi i lavoratori di Enel? Oggi è uno sciopero nazionale che nasce dopo che l'azienda ha annunciato l'intenzione di esternalizzare tutte quelle attività core che per tradizione ma anche per un motivo di sicurezza sono state sempre distintive dell'operatore Enel. Noi crediamo che questa non sia la strada giusta che l'azienda debba percorrere ma la strada giusta dovrebbe essere quella di risanare tutti i buchi lasciati aperti dai tanti pensionati che sono andati in quescenza in questi anni e quindi quello che occorre sono le assunzioni. Assunzioni necessarie per ridistribuire le attività, per riorganizzare i turni di reperibilità che sono insostenibili e per evitare che ci siano delle punte di straordinario incontrollato dove stanno mettendo a dura prova tutti i lavoratori dell'azienda, del gruppo EDI Distribuzione. Quindi per questo chiediamo che siano fatte al più presto le assunzioni evitando di esternalizzare ultimamente le attività che sono distintive dell'operaio Enel.